A pochi giorni dalla ripresa degli asili nido, la cui riapertura è prevista per il primo settembre prossimo, tornano a farsi sentire i genitori dei 180 bambini in graduatoria dai nidi comunali rimasti però senza la compartecipazione pubblica ai costi delle rette dei nidi privati in quanto la convenzione comunale finora finanziata con il progetto denominato il nido diritto dei bambini non è stata rinnovata. Per questo il coordinamento che si è costituito su questo tema dopo aver avuto un incontro nei giorni scorsi con l'assessore agli asili nido Maria Rita Paoni-Saccone, capigruppo di maggioranza e minoranza, torna ora a chiedere al comune gli aggiornamenti e lo fa attraverso una lettera. L'assessore assicura il massimo impegno. L'amministrazione comunale per quanto riguarda questa problematica degli asili nido ci sta lavorando, gli uffici stanno cercando di trovare delle risorse e attualmente abbiamo la possibilità di recuperare l'asilo nido CPI che contiene circa 42 bambini e tra qualche giorno, la prossima settimana, tra una settimana al massimo 10 giorni si dovrà mettere in atto la procedura per poter affidare la struttura e nel frattempo gli uffici ci stanno lavorando. Per quanto riguarda invece il resto della possibilità di poter accontentare le altre famiglie, si stanno cercando delle disponibilità, si stanno cercando dei fondi perché chiaramente la nostra volontà è quella di poter accontentare tutti quanti, di poter soddisfare quelle che sono le esigenze primarie della famiglia. Le mamme dei bambini chiedono però che si faccia presto per non correre il rischio di arrivare fuori tempo massimo. Noi non stiamo chiedendo la quota completa, che il comune ci fornisca tutta la quota mensile per il nido, ma semplicemente la differenza tra il costo di un comunale e il costo di un privato, quindi avere l'accesso a un servizio privato è un costo calmierato. In totale siamo 180 famiglie che stiamo ancora aspettando questi fondi, questo fondo che si chiama diritto ai bambini, diritto dei bambini, quindi non stiamo chiedendo niente di più e niente di meno, solo appunto un diritto dei bambini di poter seguire l'anno scolastico, tra virgolette, perché comunque si tratta di bambini della fascia d'età da 0 a 3 anni, di nuovo anche quest'anno l'asilo nido, perché a settembre le tempistiche così sono molto molto più lunghe e queste 180 famiglie, compresa la mia o compresa quella di Laura, si troveranno in difficoltà nel dover organizzarsi con i propri figli.